Salve a tutti, io sono James Conlon, sono direttore d'orchestra. In questo momento sto dirigendo la produzione di Hernani di Giuseppe Verdi al Maggio Musicale Fiorentino. Questo mi darà una grandissima gioia di fare. È una delle poche opere di Verdi che non ho mai diretto e che sono molto felice di questa occasione col Maggio. Ho fatto mio debutto a Firenze il 1985 con una produzione di Don Carlo. Quindi siamo sempre in questa vena verdiana, ancora con Carlo che all'inizio dell'opera di Hernani è Carlo I di Spagna, diventa Carlo V imperatore e tornerà all'inizio della fine di Don Carlo qualche anno dopo. Può vedere Hernani, più tardi può vedere Don Carlo, quindi passiamo molto tempo ora con il grande personaggio di Carlo. E vorrei invitarvi tutti a venire a una bellissima produzione di un'opera che non si vede molto, molto spesso e che vale la pena a visitare qui al Maggio. Poi siete tutti benvenuti.